Generale, cosa rappresenta secondo lei Forza NEC per le forze armate italiane e per il sistema Italia nel suo insieme? Forza NEC rappresenta l'evoluzione della capacità di ingaggiare l'appresario e di avere una possibilità di garantirsi sicurezza su base nettecentrica e tecnologicamente molto avanzata. In pratica si tratta di riuscire a mettere insieme in una rete tutte le risorse di cui si dispone, di cui le forze armate dispongono, perché ricordo che Forza NEC pur essendo principalmente a connotazione lente, quindi esercito italiano in questo caso, è comunque un programma internazionale. Ecco, secondo lei quali aspetti andranno rafforzati nel rapporto difesa-industria? Il libro bianco sembra già delineare un cambiamento importante, una partnership tra i due attori. Qual è la sua opinione a riguardo? Il libro bianco innanzitutto è molto chiaro e molto preciso da questo punto di vista. E tutto quello che c'è scritto nel libro bianco fa trasferire questa idea del sistema paese in cui ogni petina del nostro sistema, quindi le forze armate, l'industria, la politica e quant'altro, possano ciascuno agire in maniera coordinata per conseguire degli obiettivi comuni, perché le risorse le abbiamo, le risorse intellettuali le abbiamo. Come dico io si tratta di mettere insieme una buona ricetta per ottenere dei risultati. Generale Enzo Stefanini per l'Istituto Affari Internazionali, grazie mille. Grazie per la visione.